Circa 200.000 visitatori in tre giorni nel villaggio della scienza allestito in piazza Plebiscito a Napoli per futuro remoto, Kermes dedicata all'innovazione che ha coinvolto sette università e centinaia di centri di ricerca per iniziativa della Fondazione Idis Città della Scienza. Tra dimostrazioni scientifiche e un fitto cartellone di eventi collaterali la manifestazione ha tirato soprattutto una grande folla di giovani.